A 7.30 ci vediamo! Con la radio? No, a un certo punto pensavo che era Jack, l'ho visto molto atletico. F*** off! Cosa stai riuscendo? Vai! 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 Flipper, non fai così, è vero. È meglio se parlavi, ok? Non cercate di... Cosa c'è per dinner tonight? Tuna! Tuna! Per me è sbagliato sport. F***. Voi, vabbè! Voi, vabbè! Vabbè, sicuramente tu stai riuscendo! Non lo so! Non lo so! Non lo so, siamo davvero più pesati. Siamo davvero! Sì, sei la prima cosa! F***, f***! Ho visto per i miei amici! F***! È bello, eh? Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! L'uomo del giorno del Mondiale 2013? Biatlante! Racconta cosa è successo oggi. Qualcuno ci ha saputo, mi ha sabotato la draglia di poppa e sono finito in acqua come una chiavica. E poi? Noi a un certo punto nel pensiero di abbandonarlo abbiamo pensato bene riprenderci perché in fondo gli vogliamo bene. Sì, è bravo! Però chiamava la tattica anche dall'acqua. Dall'acqua gli dicevo... Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Sospì adesso! È ancora in acqua! Però sono stati bravi i ragazzi perché non hanno perso tempo. Ha fatto un'ottima manovra di uomo a mare e adesso avranno la patente nautica ad onore. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua!